Buongiorno Vistere, un'implorazione che arriva un po' da tutta Ferrara e da tutti i tifosi della Spalla. Fateci passare un buon Natale, portateci a casa a tre punti. Sì, no, questo è l'augurio e l'auspicio di tutti noi, di passare un buon Natale con una vittoria, quello sì. Il nostro intento è quello di riuscire a vincere contro l'Olbia. Abbiamo fatto una buona settimana, come nel resto tutte, e quindi la volontà, la voglia e la determinazione di portare a casa la vittoria c'è. Stando alla classifica, stando anche ai valori, Olbia, avversario che pare alla portata di questa Spalla, chi avrà la possibilità di recuperare giocatori importanti, facciamo un nome per tutti, quello di Contigliano, poi in che condizioni è Eder? È proponibile un suo utilizzo? Contigliano si sta allenando da una settimana e quindi sta bene. Poi bisogna vedere quanti minuti ha. Per quanto riguarda Simone Eder, è un giocatore importante, quindi ci può dare una grossa mano. Poi sul discorso della tenuta, secondo me 20-25 minuti c'era mezz'ora, poi dipende dai ritmi della partita, perché puoi fare anche mezz'ora palleggiando e quindi rincorri meno. Però è un ragazzo che si sta impegnando, quindi quando arriva qualche giocatore porta la nuova linfa e quindi sono convinto che lui poi con gli allenamenti più avanti, dopo la sosta natalizia, ci può dare una grossa mano, perché ha qualità importante. A Pinitio che è indisponibile anche Epeda, totalmente recuperato. E poi, come detto in precedenza, questo Olbia è un avversario che la SPAL ha le qualità per superare. Ma noi, in quanto SPAL, nessuna partita ci è preclusa, al di là del nome dell'avversario. Proprio perché rispettiamo tutte le squadre, il grande rispetto, come ho detto nelle precedenti conferenze, porta a dare di più durante la settimana. E quindi noi rispettiamo l'Olbia come rispettiamo la prima della classe ed è quello che ti deve far dare qualcosa in più. Però poi ci sono 95 minuti. E quel rispetto poi lo dobbiamo dimostrare in campo. Pineda si è allenato tutta la settimana. E tra i convocati. Alberto Venanzi, la giuste vita. Buongiorno, mister. Quattro risultati positivi. Purtroppo non è ancora arrivata la vittoria. Ci auguriamo che possa arrivare domani contro l'Olbia. C'è un aumento di consapevolezza nella squadra di sicurezza? Sì, c'è. Lo vedo anche durante gli allenamenti. Dobbiamo essere più convinti in determinate situazioni. Crederci un po' di più. Non andare col braccino del tennista. E la volontà è quella, come dicevo prima, di vincere la partita. Perché andare vicino non basta. Quello serve solo quando si gioca a bocce. E noi dobbiamo vincere la partita. Ci siamo andati vicino in questo periodo. Ma adesso è arrivato il momento di riuscire a vincere la partita. Anche perché se lo merita l'ambiente, ce lo meritiamo tutti. Oggettivamente parlando. Quali sono i peggiori rischi che teme domani per la spalla incontrando l'Olbia? Quindi questa vicinanza in classifica, il fatto che sia una partita che diventa a questo punto molto importante. I rischi sono se noi pensiamo che domani sia una partita facile. E non lo è assolutamente. Perché se vado a vedere la classifica l'Olbia è sopra la spalla. Io la realtà la guardo sempre in faccia. Non me nascondo dalla realtà. E quindi l'Olbia se sta sopra di noi, ad oggi, è più forte della spalla. E noi dobbiamo mettere qualcosa in più per poter portarla a casa. Buongiorno mister, Marcello Ferroni, stense.com Buongiorno. Voglio chiederle, l'Olbia fatica molto in attacco. Diciamo che è una problematica in comune alla spalla in questa prima parte di campionato. Quindi magari potrebbe arrivare a Ferrara con un atteggiamento più coperto, magari più pronta a ripartire. Pensa che possa essere una partita in cui si possa vedere una spalla anche più aggressiva rispetto alle ultime partite. E se si dovrà fare ancora maggiore attenzione ad eventuali disattenzioni difensive. Che anche in quest'ultima partita, come nell'ultima Pinetto, purtroppo sono costate i tre punti. Bisogna fare attenzione quando arriva una squadra, se eventualmente arriva una squadra che è guardinga, è non forzare le giocate perché poi puoi beccare le ripartenze. E quindi anche là bisogna fare attenzione a non farsi giocare dalla partita. Perché quella voglia di portarla a casa a tutti i costi, sin dall'inizio, ci deve essere. Ma ci sono 95-96 minuti. Poi quando riguarda... Laddove c'è l'errore singolo poi si va a lavorare. A me sta piacendo la squadra dove sta lavorando del reparto. Quindi è una squadra che è diventata più solida. Quindi l'errore singolo lo andiamo a lavorare. Ci puoi fare poco sull'errore singolo. Magari con una postura meglio del corpo si può correggere anche l'errore che magari c'è stato. Però quello dobbiamo ormai accantonarlo. Abbiamo lavorato, abbiamo visto dov'è che si è fatto l'errore per poterlo poi, quando si ripresenta, non ripeterlo. Prego. Alessio Duatti, la nuova Ferrara, buongiorno. Buongiorno Alessio. Vincere la partita di domani darebbe un certo valore ai quattro pareggi consecutivi. Non vincerla ovviamente darebbe letture differenti anche proprio dal punto di vista mentale, anche con una sosta davanti. È un tasto che ha toccato in questi giorni con i giocatori? Sì, lo tocchiamo spesso, non solo io, anche con il direttore. Quando si vede il pareggio lo si vede delle volte come una sconfitta. Quindi sono d'accordo con lei quando parla che un'eventuale vittoria poi danno più valore a quei quattro risultati, anche se sono pareggi, ma sono quattro risultati utili. Con i secondi ma non si fa calcio, mi viene da pensare a Carrara, quindi magari era anche qualcosa in qualche punto in più, però è archiviato. E sono d'accordo. Ti dà con sé pavorezza la vittoria e quindi ti fa sentire anche l'autostima. Più bravo, ecco, quando si dice in gergo ti senti più bravo. E a noi ci manca e me lo auguro veramente che questa vittoria possa arrivare perché questi ragazzi se lo meritano. Buongiorno, mister. Riccardo Condarcuri dello Spallino. Buongiorno, Riccardo. Mi riattacco a questo discorso qua. C'è consapevolezza? Si può dire che ci sia anche un po' di paura forse nello spogliatoio e nel caso questo può essere anche una motivazione a spingersi a fare ancora meglio? Paura no, però quella serenità di vincere a tutti i costi ci può sta, ma noi come dirigenza e noi come staff tecnico cerchiamo di toglierla, quindi di pensare sempre positivo e tutte le partite vanno affrontate al massimo della propria determinazione e che tutte le partite si possono vincere. Partendo sempre da 0-0, ultimamente abbiamo visto che se vince e se perde chi sbaglia meno. Poi le chiedo, ultimamente si parla molto di gennaio come punto di ripartenza, lasciando da parte il mercato, ci riferiamo magari a coloro che rientrano dagli infortuni, possono dare qualcosa in più oltre che a livello tecnico anche a livello di atteggiamento di squadra, visto che comunque Siligardi ha molta esperienza, Dalmonte è comunque un giocatore importante? Sì, hai parlato di due giocatori dove l'estate quando si fa la squadra sotto l'ombrellone giocano titolari, due giocatori importanti per questa squadra, come lo sono tutti del resto. Il recupero di Luca Siligardi è un po' più avanti, quella di Nicola Dalmonte dovrebbe essere l'anno 21, poi bisogna valutare la condizione o meno, però sono due giocatori importanti per questa squadra, sia per il vissuto, sia per le qualità tecniche, che tante volte la differenza tra chi ha vissuto e il giovane è anche nella partita, quando accelerare, quando decelerare, questo è importante. Fermo restando che tutti i ragazzi che stanno giocando i giovani stanno dando il massimo. Mister, buongiorno, Mauro Malaguti resta il canale. Buongiorno, buongiorno. Mi chiedo una cosa che va un attimo oltre la partita con l'olio, finora l'impressione che si è avuta nel suo lavoro nella spalla, abbiamo visto che ha ruotato uomini e moduli ed è sembrato, sensazione poi ci dà lei se è vero o no, che in qualche modo lei abbia dovuto tamponare una situazione di evidenti menomazioni, soprattutto in attacco, ma non solo, perché poi ci sono state anche altre essenze, come quella di Conteliano, e abbia cercato, come posso dire, di tamponare partita per partita anche in base all'avversario che affrontava. Le volevo chiedere adesso, quando ritroverà la disponibilità dei giocatori, magari il direttore le prenderà quei 10-12 uomini, 15, che servono, ha un'idea di come vorrebbe che la sua spalla giocava, tanto lei sa le caratteristiche dei giocatori che verranno, quindi un'idea la può già avere, cioè vuole una squadra per esempio d'attacco, una squadra che attende e riparte, vuole una squadra aggressiva, una squadra più, come posso dire, tranquilla, equilibrata, ha un modulo con cui pensa di stabilizzare un pochettino di più la squadra. Grazie. Allora, a me la squadra aggressiva piace, perché ero così, quindi l'atteggiamento sembra aggressivo, che non lo puoi portare per 95 minuti, poi c'è la situazione che ti aspetto per poi ripartire, perché in una partita ci sono tante partite. Sul discorso della rotazione degli uomini, ce ne succedono una ogni giorno, e quindi vai a mettere una squadra che ti dà più equilibrio, e la ragione è anche che se parti magari avendo tre attaccanti, parti tutti e tre e devi forzare la partita, devi mettere un centrale a fare l'attaccante. E quindi la pensi e dici, se metto un giocatore che non è attaccante, però dà equilibrio e poi ho bisogno dell'attaccante che ne ho uno, faccio entrare lui, altrimenti non sai chi far entrare. Tutte queste valutazioni si fanno anche in base agli uomini che è a disposizione e alle caratteristiche. Venendo a mancare determinati giocatori, non essendo io un integralista, vai ad adattare, a modellare la squadra. E quando non andiamo dall'altra parte, non faccio una mano, faccio vedere alla tribuna che faccio andate avanti e con l'altra state dietro, come vecchio allenatore degli anni 90-80, non faccio così. Perché in quella situazione magari non abbiamo la forza di andare in avanti. Oso è l'avversario che in quel momento è più bravo e ti fa stare nella tua metà campo. Questo sì. E quindi laddove si è andata a cambiare è stato anche in base agli uomini che avevi a disposizione. Invece quello che le chiedeva è come pensi una volta che avrà una rosa con diversi giocatori a disposizione senza le limitazioni dell'ultimo periodo. Questa è una squadra che è stata costruita con 4-3-3, con tante meziali e tanti attaccanti esterni. Quello 4-3-3 lo puoi interpretare avendo i due esterni larghi sulla fascia, avere i due attaccanti che puoi colcare dentro. Però bisogna capire se hanno le caratteristiche per poter giocare dentro. Quindi per piacere a me faccio un dispetto ai ragazzi e porti dei ragazzi a giocare dentro quando magari l'esperienza o non il vissuto sono più bravo a giocare in fascia. E là noi cerchiamo col lavoro di riuscire ad ottenere sia l'uno che l'altro. E andiamo step by step con la crescita anche di tanti ragazzi validi, giovani che abbiamo. Quindi l'idea è quella di avere una squadra che gioca sempre nei 30 metri in avanti, nei 30 metri quando si è dietro. Una squadra aggressiva che quando ha la palla deve palleggiare, che quando ce l'hanno gli altri deve fare di tutto per andare subito a recuperare. Anche se là ci vogliono le caratteristiche. Avete un mercato davanti per cercare. Sì, sì, sì. Le caratteristiche caratteriali per venerti a prenderti per la gola. Quella là è una cosa fondamentale. Ti posso arrivare con le caratteristiche e con un atteggiamento di squadra che ti aiuta attraverso l'aspetto tattico. Perché l'atteggiamento non è altro che un aspetto tattico. Con caratteristiche del giocatore, se vuoi, se è una squadra da fibre bianche è più facile farlo. Sono quelli più veloci che hanno la gamba. Ultima cosa, poi mi tazzo. Però lei ha esterni che finora amano rientrare. Siligardi giocava a destra e poi rientrava a sinistra. Dal monte gioca a sinistra per rientrare a destra. Anche Eder, penso. Hanno quelle caratteristiche, come c'è la Rao. C'hanno quelle caratteristiche. Poi le volte quando parti con Rao e Orfei, anche tutte e due, gli piacciono giocare da piede opposto, però uno dei due deve giocare sul piede forte. Anche l'anno e quelle valutazioni le facciamo. Se avete notato, nelle ultime partite le ho fatte anche cambiare dopo 15-20 minuti per cercare di mettere a proprio agio i ragazzi. Grazie a tutti. La società le ha promesso che i rinforzi arriveranno già per essere pronti per la trasferta di peso? Non le chiedo quanti. Noi parliamo spesso con il direttore, con la società, che siamo una famiglia. E quindi portare all'inizio magari dei ragazzi giusto per far vedere. No, il direttore sta valutando insieme all'allenatore determinate caratteristiche, determinati giocatori e eventualmente possano dare una mano alla SPA.